questo programma è offerto da infante calzature e pelletterie a valo della lucania in via angelo rubino e ad agropoli in via pio 10 70 infante calzature sabato 27 dicembre ben ritrovati riprendiamo la nostra informazione dopo la pausa natalizia e lo facciamo davvero con piacere con il nostro ospite antonio lombardi presidente del lancio salerno ma mi consenta un cilentano doc un vallese doc allora grazie di essere qui con noi in questi in questi giorni di festa ecco parlavamo dopo la pauta delle festività natalizie però siamo in pieno in pieni festeggiamenti ancora allora una domanda subito a caldo 27 dicembre cioè prestiamo a chiudere questo 2014 analizzeremo ecco gli ultimi 360 giorni nei minimi dettagli sotto diversi punti di vista però una domanda subito ecco che anno è stato che anno ci apprestiamo a chiudere ma devo dire che è stato un anno non buono un anno non buono sotto tutti i punti di vista soprattutto a livello economico devo dire che è un anno nel quale la crisi l'ha fatta da padrone quindi le imprese in questo momento hanno pagato lo scotto di una mancanza di programmazione a livello economico e quindi l'italia purtroppo sta sempre negativamente diciamo caratterizzandosi anche a livello europeo abbiamo un paese in deflazione la disoccupazione che è aumentata a livelli incredibili abbiamo una disoccupazione giovanile ad altissimi livelli ha superato il 42 per cento quindi credo che dobbiamo mettere alle spalle l'anno di incertezza e dobbiamo pensare positivamente per il futuro perché l'imprenditore deve essere ottimista proprio per natura ecco lei illustrava questa situazione non proprio positiva in ambito nazionale riportandoci invece a quella che è la realtà del nostro territorio il territorio cilentano non siamo messi negli ecco dobbiamo essere ugualmente negativi ma devo dire che quello che vediamo non lascia presagire un futuro rosio penso ad esempio all'avvertenza dei lavoratori del consorzio di smaltimento rifiuti a quelli dell'Aiele i problemi che si sono avuti per i lavoratori forestali delle comunità montane devo dire che anche nel cilento credo che dobbiamo invertire un po' la rotta e cercare di programmare meglio le attività future anche perché abbiamo una grande opportunità quella di utilizzare bene e meglio i fondi strutturali che sono diciamo l'ultima spiaggia che possiamo avere per cercare di far sì che le nostre zone possano recuperare un po' di gap perduto io voglio ricordare che noi in provincia di Salerno abbiamo un tesoretto di un miliardo e cento milioni da spendere per infrastrutture e purtroppo nonostante non facciamo nuove infrastrutture ci troviamo con quel problema della cilentana che ormai da un anno e mezzo devo dire è diventata la croce dei cilentani io credo che su questo dovremmo fare... lei lo sa benissimo perché lavora a Salerno, vive a Vallo quindi penso che è utente della cilentana sì e devo dire io vorrei anche esortare un po' i sindaci locali a fare qualcosa perché questo immobilismo assolutamente penalizza... ecco il giorno prima di Natale il 24 se non sbaglio dalla Regione è arrivata questa notizia del finanziamento 12 milioni però ecco non possiamo ancora festeggiare perché la notizia del finanziamento non significa risoluzione del problema assolutamente no e devo dire che questo fa sempre parte di quella campagna di marketing e di annunci che poi non si caratterizzano e non si contraddistinguono infatti con cose fatte io devo dire che credo che la gente, gli utenti, le imprese sono stanche degli annunci e gli annunci li abbiamo avuti anche ad agosto quando si disse che a dicembre la strada veniva consegnata veniva aperta al traffico invece purtroppo devo sottolineare che ancora abbiamo il problema della pila del viadotto tra Agropoli e Prignano che non è stato risolto ecco la politica in mano nel bene o nel male è la soluzione di tanti problemi ma un imprenditore dinanzi ad un problema così importante come avrebbe agito? ecco la soluzione dal punto di vista di un imprenditore beh io credo che il politico debba parlare meno in politichese e fare di più i fatti innanzitutto quella è una problematica di protezione civile quindi per risolvere il problema della cilentana parliamo già di due o tre anni, prima la frana poi il pilone sono quasi due anni infatti maggio 2013 se ricordo bene si è avuto il primo problema del pilone è un'opera di protezione civile bisogna realizzare un ponte mobile aprire la strada al traffico e lavorare nel contempo a risolvere le problematiche quindi si potrebbe intervenire prima ma molto prima molto prima anche perché credo che la provincia ha dimostrato di non essere adeguatamente competente nella gestione di una strada così importante e credo che quella strada la possa gestire solo l'ANAS che è un ente che riesce a gestire ancora bene la manutenzione stradale poi come le dicevo prima bisogna realizzare un ponte mobile perché avuto il finanziamento bisogna fare il progetto in Italia per fare un progetto sappiamo l'iter quando si apre un cantiere pensi che è stata pubblicata l'indagine internazionale del World Economic Forum che fa la classifica dei 189 paesi ebbene l'Italia al 49esimo posto nella classifica generale ma per la burocrazia scende al 143esimo posto per la fiducia nella giustizia al 139esimo quindi siamo indietro rispetto ad altri paesi ad esempio Malta, la Repubblica Ceca, la Serbia sono molto più avanti di noi in queste tematiche perché noi abbiamo la burocrazia che è un problema tutto italiano ha avuto il finanziamento bisogna fare il progetto per fare un progetto ed avere tutti i pareri passano mediamente tre anni in Italia mi auguro che per quest'opera siano i tempi molto rapidi e poi abbiamo i problemi della gara del contratto quindi volendo essere positivi dopo l'annuncio del finanziamento all'apertura dei cantieri alla probabile consiglia dei lavori 24 mesi volendo essere molto positivi altri due anni quindi andiamo quasi a cinque anni dall'inizio del problema purtroppo sì però come le dicevo prima l'unico modo per risolvere il problema è un'opera di protezione civile anche perché vorrei capire la prossima estate cosa succederà con una strada abbiamo fatto questa apertura l'estate scorsa ecco voglio dire a tratti a periodi però il problema è stato veramente il problema è serio è importante è serio anche perché parliamo di una di un territorio che vive di turismo purtroppo ed è stato penalizzato anche da questo punto di vista tantissimo e abbiamo anche una viabilità alternativa che assolutamente non è adeguata io voglio ricordare che i camion i tir per arrivare a Vallo devono arrivare a Padula a Buonabitacolo e poi prendere la Cilentana ma è una cosa inimmaginabile i costi di trasporto e i costi per la collettività aumentano in una maniera incredibile dietro l'indifferenza quasi generale indifferenza non perché qualcuno non ha urlato ma perché bisogna trovare la soluzione alla problematica non basta dire ma la politica si confronta con gli imprenditori io credo che lo stiamo dicendo penso che questo suo pensiero è arrivato forse a chi di dovere io penso che il confronto c'è però il problema è trovare la soluzione come si può risolvere il problema diminuendo la burocrazia perché noi abbiamo una miriade di enti che controllano controllori e controllati cioè io penso che sia inaudito il fatto che la giunta regionale determina la realizzazione di un'opera e poi gli enti della stessa regione ARPAC autorità di Baggino Ato le varie entità sempre della regione il genio civile debbano intralciare quell'opera ecco sarebbe molto semplice individuare l'opera mettere tutti gli enti a sedere in una conferenza di servizi che non deve essere quella prevista dalla legge ma una conferenza seria nella quale in una seduta si diano tutte le prescrizioni e nella successiva si rilascino gli atti in 90 giorni si può fare non è utopia ma bisogna volerlo basta la volontà insomma iniziamo a dare uno sguardo anche quotidiane di oggi perché c'è subito uno spunto anche per parlare con lei licenziamenti il nuovo scontro i sindacati il Joe Bakten è un via libera ai tagli di massa un nuovo centro democratico poco deluso poco coraggio sia i decreti attuativi cambiano indennizi e reintegro la disciplina si applica anche alle crisi aziendali allora vogliamo spiegare che cosa sta accadendo sta accadendo che come sempre nel governo funziona bene l'ufficio marketing perché ricorderete tutti gli annunci del premier sul Jobsat la rivoluzione governicana infatti c'è una bella pagella diceva lei marketing una bella pagella per Matteo Renzi per quanto riguarda la sua immagine un bel lotto poi pian piano i voti scendono per quanto riguarda il suo impegno nei diversi settori riforma costituzionale 7 Europa 7 via via fino ad arrivare alla giustizia 6,5 per il voto più basso e per la scuola 5 quindi lavora di immagine si lavora di immagine lavora molto di immagine ed è molto bravo diciamo a portare avanti la sua immagine però volevo dire che quello che è stato annunciato di fatto non si è poi riscontrato nella legge perché ad esempio in una legge nella quale si parla di rivoluzione copernicana devo dire che non è possibile ad esempio licenziare il lavoratore per scarso rendimento non è previsto nella legge come pure invece prima si prima diciamo che era possibile iniziando un'avvertenza con il lavoratore oggi è espressamente esclusa dalla riforma la possibilità di licenziamento per scarso rendimento quindi se assumiamo un lavoratore si siede non lavora noi dobbiamo purtroppo non abbiamo la possibilità di licenziarlo per quella motivazione lo si può licenziare per altre motivazioni ma questo sull'indicazione dei sindacati credo proprio di sì perché alla fine i sindacati hanno un potere di veto notevole devo dire che negli anni hanno sempre dimostrato la loro forza anche attraverso gli scioperi di massa che sono continuati in questo periodo però gli imprenditori almeno si aspettavano la possibilità di licenziamento senza reintegro del dipendente e adesso invece il reintegro è stato reinserito perché il lavoratore che viene licenziato avrà un contratto a tutele crescenti con dei bonus che vanno da 2 a 24 mensilità quindi il lavoratore per ogni anno in cui è stato nell'impresa riceverà due mensilità di bonus per essere licenziato ed è possibile anche il licenziamento collettivo però come dicevo prima è una risposta tiepida alla rivoluzione copernicana annunciata e devo dire che ci sono delle modifiche ma via via insomma sì anche l'altra cosa che credo sia sbagliata è che la Camera deve dare deleghe al governo sono delle deleghe in un certo senso un po' in bianco perché si tracciano quelli che sono i temi ma alla fine è il governo che è delegato ed emette i decreti su varie normative ad esempio sul lavoro ci saranno ci sono cinque deleghe ne è stata utilizzata fino adesso una per la riforma del Jobs Act avremo altri quattro decreti attuativi di questa riforma quindi come sempre parliamo in burocratese perché quando viene emanata una norma non si può interpretare questa norma se non si hanno gli avvocati competenti del settore che poi devono guidare un po' sia i lavoratori che le imprese ecco dobbiamo essere più semplici più diretti con le imprese e con i cittadini perché abbiamo già tante leggi e l'Italia nella burocrazia annaspa lei in proposito di lavoro in apertura ha subito fatto un riferimento ai lavoratori dell'AIE le ricordiamo sono ore importanti per loro lunedì il 29 se non sbaglio lunedì giusto è prevista questa assemblea in cui Vitale il commissario dovrebbe dire sì o no alla proroga nella speranza che almeno si presenti perché nel corso delle ultime due sedute non si è presentato come vede questa situazione 300 persone c'è chi dice che non rischiano una parte politica l'altra parte politica invece insiste per la proroga proprio in riferimento alla stabilità occupazionale dei lavoratori ecco come vede questa situazione è sempre in mano alla politica ma io vedo che io mi auguro innanzitutto per i lavoratori che si risolva positivamente la questione anche perché 260 occupati sono tanti per il territorio quindi penso alle tante famiglie che in questo momento hanno passato un brutto Natale un brutto periodo non avendo la certezza del futuro e del posto di lavoro però come sempre le vicende si potevano gestire meglio non è che abbiamo la bacchetta magica o parliamo con il senno di poi però è normale che quello dei rifiuti non è un settore in crisi no non è un settore in crisi ed è diventato un business per i comuni perché la verità è che quella è una tassa di scopo e tutti i fondi incassati dal comune dovrebbero essere utilizzati per pagare gli enti che sono deputati cioè i cittadini pagano alla raccolta al trasporto dei rifiuti però così non è perché di fatto i comuni incassano la Tarsu ma non riversano ai consorzi o alle società di gestione quello che incassano e utilizzano magari questi fondi che ripeto sono per una tassa di scopo per altre cose e quindi credo che questo sia uno dei problemi da risolvere soprattutto nella nostra comunità perché tanti comuni sono debitori probabilmente quasi tutti sia del consorzio che dell'Aiele abbiamo questa doppia realtà è nato il consorzio poi ha partorito la figlia la società operativa una doppia gestione ecco una gran confusione alla fine poi siamo arrivati dove temevamo ovvero ad un momento di non ritorno i lavoratori che rischiano il posto di lavoro c'è questa legge regionale che deve essere rispettata bisogna creare il nuovo ente gestore del ciclo dei rifiuti sì purtroppo sempre i tanti passaggi burocratici creano difficoltà io credo che lo Stato ormai ha dimostrato la propria incapacità a governare società pubbliche non è da ultimo un'analisi che ha detto che tutte quasi tutte le società partecipate del centro-sud Italia perché al nord è un'altra musica sono società in perdita sono società nelle quali la politica non ha dimostrato la menagerialità che è necessaria andiamo a dare uno sguardo anche al mattino edizione di Salerno subito la cronaca Natale alcolico 30 in ospedale eccessi nei brandisi in strada tutti al pronto soccorso record per luci d'artista tappeto di bottiglie rotte in centro vandali scatenati sul nuovo tratto del lungomare ripresi dalle telecamere poi ecco se ne va il prefetto di Salerno Gerarda Maria Pantalone trasferita a Napoli rifacciamo naturalmente gli auguri con me a Napoli il modello Salerno il prefetto Pantalone dice non dimentico e poi la politica centro-destra lite con l'ala fitto divorzio e veleni tra gli ex di alleanza nazionale ancora cronaca ambulante sfigurato dei fuochi e grave prima vittima dei botti un 39enne di Altavilla trasferito d'urgenza all'ospedale di Caserta il petardo gli esplode in volto e perde l'occhio destro il viso devastato dallo scoppio poi corte dei conti caso incentivi assolti dirigenti e impiegati consiglio di stato porto di passera nuovi atti per il giudizio superstrada Baronissi Nord cancella Lancusi questo il caso in fondo pagina allora è un momento politico per tutta la provincia di Salerno particolarmente delicato abbiamo una nuova provincia intanto come imprenditori vi confronterete sicuramente con la provincia come è iniziato questo rapporto con la nuova provincia di Salerno è iniziato sotto i migliori aspici chiaramente il presidente Canfor ha altri problemi in questo momento perché comunque avevamo un decreto di Monti che di fatto tagliava le province le province non sono state tagliate ma è stato cambiato il sistema di elezione è passato al secondo livello quindi la problematica che la provincia ha in questo momento è quella relativa ai tagli noi abbiamo un ente che credo che abbia grandi competenze io sarei più per l'abolizione delle regioni e non delle province perché le province hanno competenze ad esempio sugli istituti scolastici sulla viabilità anche la competenza ambientale in provincia per rilasciare le varie autorizzazioni e quindi credo che in questo momento abbiamo anche avuto notizie dalle cronache dei giorni scorsi c'è un problema anche in provincia per i lavoratori delle varie partecipate quindi ha fatto anche una protesta insomma in questo momento credo che la nuova giunta il nuovo presidente abbia dei problemi seri da risolvere perché secondo lei i problemi creati dagli ultimi cinque anni di amministrazione di centrodestra che provincia abbiamo avuto fino ad oggi io credo che alla fine i problemi seri che hanno un po' tutti gli enti locali sono derivati dai tagli che ci sono stati a livello centrale abbiamo questo scellerato patto di stabilità che ancora una volta sta distruggendo un po' il sistema degli enti locali e non si mette mano a questa sciagurata norma che voglio ricordare è una norma tutta italiana perché a livello europeo non esiste il vincolo del 3% tra deficit e PIL però non esiste una norma interna che limita la spesa degli enti locali anche i comuni talvolta si trovano in difficoltà infatti abbiamo il paradosso che vi sono comuni che hanno liquidità che non possono impegnare e spendere proprio per questo scelerato patto di stabilità non è il caso della provincia che invece non ha fondi e quindi deve trovarli e deve anche cercare di salvare le società sempre per il discorso occupazionale però devo dire che negli anni probabilmente qualcosa non ha funzionato perché molte società provinciali erano sovradimensionate con l'organico perché purtroppo uno dei mali della politica è stato quello di ingolfare gli enti di assunzioni anche precarie che poi alla fine hanno portato in dissesto le società partecipate poi forse fanno comodo in un periodo elettorale è probabile è probabile intanto ecco ci apprestiamo a vivere questa campagna elettorale per quanto riguarda le elezioni regionali vabbè lo sappiamo tutti il sindaco di Salerno è in prima linea bisognerà vedere cosa deciderà il partito ci sono le primarie primarie sì primarie no secondo lei ecco che elezioni saranno? dipende dalla direzione nazionale per quanto riguarda il centro-sinistra io credo che in questo momento anche il centro-destra stia aspettando quello che succede in casa del PD però questa incognita delle primarie non è di poco conto perché se il candidato è calato dall'alto ed è scelto da Roma non credo ci siano cose positive per il territorio credo che nel momento in cui è maturata a livello nazionale una metodologia che tutti i partiti stanno seguendo è giusto che l'elettore scelga il proprio candidato quindi è ancora tutta da decifrare questa incognita vedremo quello che accadrà nei prossimi mesi io mi auguro solo che il nuovo candidato il nuovo presidente della regione Campania metta mano un po' a quella burocrazia della quale parlavamo prima lei prima parlava pure dei finanziamenti europei la regione in questo è un compito importantissimo è un compito importante voglio sottolineare che la Campania è il fanalino di coda in Italia per la spesa dei fondi strutturali noi abbiamo 2 miliardi e mezzo di euro da spendere entro il 31 dicembre 2015 è un'utopia non saranno spesi tutti questi soldi saranno restituiti in gran parte all'Unione Europea però bisogna fare presto e bene perché sarebbe un peccato ancora una volta lasciare dei soldi ai paesi dell'est europeo che sono molto più bravi di noi a spendere proprio per la mancanza di burocrazia allora per quanto riguarda la politica dicevamo la politica alta tensione veleni crisi centrodestra lite con l'ala fitto e divorzio tra ex A.N. Longo e Gagliano insolgono contro la Carfagna per gli attacchi ha fallito dicono non può darci lezioni secondo divorzi in Fratelli d'Italia dopo Cardella si dimette anche Peduto c'è grande quindi gran fermento in tutti i partiti per quanto riguarda invece la pagina della cronaca l'abbiamo visto sfigurato dal botto in coma esplosione nella notte della vigilia vittima un 39enne con due figlie piccole grave incidente ad Altavilla poi le contromisure a Polla e San Rufo vietato usare i fuochi sempre per quanto riguarda la cronaca battipai da quattro case svaliggiate a Natale approfittano delle feste per saccheggiare gli appartamenti disabitati un bottino di 20 mila euro preso in tre strade del centro ad agire la stessa banda poi l'incidente ad Eboli ferite tre donne madre corre dal figlio letto nato al San Leonardo scontro frontale in Litorania a Giffoni rubano gasolio e due furgoni per i rifiuti e poi a Castellabate il salvataggio troppo alcol trentenne rischia la vita regolamento di conti tra la folla ad Agropoli i giovani litigano al bar un ferito al setto nasale il padre accorre armato diamo giusto uno sguardo alle pagine sportive dunque modulo Fabiani innesti mirati nessuna fretta poi per quanto riguarda sempre il derby trasferta a Caserta con la tessera del tifoso e Lombardi coccola la sua casertana caro lo tito il prossimo derby e in B il personaggio patron dei falchetti si augura la doppia promozione allora tutti sappiamo la sua grande passione e andiamo avanti andiamo avanti leggiamo l'Agropoli la Sicilia della verità il quarto posto sta stretto anche se un accenno poi al calcio nostro locale lo facciamo subito per quanto riguarda invece la prima della città primaria il PD va alla resa dei conti ore decisive lo dicevamo per la convocazione della direzione regionale il pressing di De Luca l'allarme di Sagese e in Forza Italia è scontro Longo e Carfagno l'abbiamo visto non accettiamo lezioni di moralità poi festività con traffico e rifiuti Natale di eccessi ora la città si prepara all'invasione di San Silvestro anche a Salerno ci sono i preparativi per questo grande momento che si terrà la 31 sera con il Gran Concerto allora torniamo al nostro territorio parlavamo prima dell'importanza dei finanziamenti europei degli enti locali noi siamo è un momento anche di incertezza diciamo ma anche di attesa sotto tanti punti di vista Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Albor siamo tutti in attesa dell'arrivo del nuovo presidente voi con il parco avete instaurato un rapporto di collaborazione se non sbaglio sì devo dire che abbiamo cercato già da tempo di interloquire con il parco anche perché credo che mai come in questo momento i costruttori hanno capito che non è finito il momento della cementificazione ma lo sviluppo del settore può ripartire solo dal recupero e dalla riqualificazione urbana quindi era imprescindibile non intavolare un discorso con il parco del Cilento con il quale abbiamo stipulato un protocollo per l'utilizzo corretto dei fondi strutturali europei mettendo ecco anche le nostre competenze e i nostri uffici di Bruxelles a disposizione dell'ente parco devo dire che ancora sul territorio chiaramente il parco è percepito male perché è un parco che ha reso edotti i cittadini solo dei vincoli ma poco delle potenzialità che questo territorio grazie al parco si può recuperare secondo lei potrebbe avere io credo che il presidente dell'ente parco possa se magari viene scelto tra il territorio possa dare un rilancio a questo ente che è fondamentale per lo sviluppo soprattutto turistico ed economico del nostro occidente io voglio ricordare che grazie al parco abbiamo dei siti sit di interesse comunitario abbiamo anche una parte di territorio che è patrimonio unesco quindi la valorizzazione a livello turistico delle nostre aree è fondamentale e importante ma non può prescindere dalle infrastrutture quindi torniamo al discorso di prima se dovesse ripartire l'aeroporto di Ponte Cagnano io ho i miei dubbi perché conosco bene la vicenda sono le solite favole che da 30 anni ci propinano anche perché voglio brevemente fare un inciso sull'aeroporto non è che l'aeroporto significa prolungamento di una pista quindi prolungare la pista non significa aprire un aeroporto perché intorno ad un aeroporto ci sono una serie di servizi che vanno creati ma soprattutto è necessario che delle società siano interessate all'aeroporto di Ponte Cagnano e oggi l'aeroporto di Ponte Cagnano non ha ancora la concessione dal ministero dell'economia che ha giudicato positivo il piano ma ha chiesto agli enti di gestione dove prenderanno i soldi per gestire l'aeroporto quante inaugurazioni abbiamo fatto ma credo che ne abbiamo fatte diverse e soprattutto abbiamo la certezza che quell'aeroporto ad oggi costa 200 mila euro al mese senza dare un beneficio alla popolazione al territorio e quindi è uno degli altri sprechi ecco dobbiamo avere il coraggio di dire si può fare facciamolo andiamo avanti oppure chiudiamolo abbiamo sbagliato per 12 anni credo che questo in questo momento ci voglia un atto di responsabilità da parte di chi è deputato a gestire questa struttura ma tornando al parco il parco potrebbe veramente creare le condizioni in questo territorio per un'economia più florida penso ad esempio a una caratterizzazione dei prodotti tipici a marchio parco prodotti alimentari che sono delle peculiarità della nostra terra l'olivicultura le castagne magari ecco i salumi realizzare una sorta di prodotti tipici che potrebbero essere esportati anche con il marchio del parco oppure creare si era partiti con l'ospitalità da favola ricorderete tutti e devo dire che una cosa hanno indovinato la favola perché una favola è rimasta i personaggi dei fumetti erano molto azzeccati però ecco dovremmo creare insieme con il territorio perché il parco deve essere noi diciamo aspettiamo il presidente del parco però ricordiamoci che c'è anche un'altra gestione quella che dovrebbe arrivare dal territorio ovvero dai sindaci che non hanno eletto il presidente della comunità del parco quindi in questo i sindaci locali non hanno dimostrato la grande maturità che serviva in quel momento perché credo che anche in assenza di presidente il presidente dei sindaci della comunità del parco avrebbe potuto incidere sugli organi tecnici che gestiscono il parco quindi una sorta di governo parallelo avrebbe potuto la comunità ha un suo importante ruolo potrebbe svolgere un importante ruolo e in questo momento l'appello da fare ai sindaci è quello di unirsi al di là degli schieramenti politici e dei campanilismi per il bene del territorio perché credo che nel Cilento abbiamo uomini capaci che possono guidare anche le comunità e lo dimostrano quotidianamente con l'azione che svolgono perché poi non dobbiamo sempre dire la politica sbaglia no siamo anche noi a sbagliare io non è che voglio crocifiggere la politica e credo che Einstein ci ricordava nel periodo di crisi economica che se vogliamo che le cose cambino non dobbiamo continuare a fare le stesse cose ma tutti possiamo essere attori del cambiamento quindi non è solo la politica che sbaglia la politica però ha delle grandi colpe e chi si candida e mette la sua candidatura al servizio della collettività deve anche accettare le critiche perché è giusto che i cittadini vogliono che i propri bisogni vengano rappresentati dal politico di tutto quindi non è un modo di dire è la politica che ha le colpe però sono i referenti istituzionali e quindi devono recepire le nostre lamentele continuiamo a dare uno sguardo alla prima pagina della città torniamo al lavoro centro impieghi servizi in tilt problemi con la gestione delle banche dati niente certificati agli utenti poi a sacco c'è questa curiosità tredicesime beffa solo un euro in bussa paga per una docente un euro di tredicesima poi vediamo il perché ecco bandiera blu Italo Voz sindaco di Capaccio recluta un esperto poi dalla provincia raccolta rifiuti si prepara il nuovo band a Camerota io tartassato da Stato ed Ims vendo azienda questa è una notizia che sicuramente deve far riflettere vediamo che cosa succede nelle pagine interne Raffaele Galato nel frantoio della sua azienda quindi chiude il frantoio poi a Battipaia da alberghiero Giovanni Cuochi per le scuole in fondo pagina ancora lo sport Salernità Naronica si vicino oggi ci sarà l'incontro decisivo per l'esperto difensore ma mentre ci apprestiamo ad aggiungere le pagine della città che ci riportano la provincia di Salerno parlavamo prima dei fondi dell'Unione Europea intanto con i fondi dell'accelerazione di spesa la regione ha finanziato tanti piccoli e grandi interventi un po' in tutta la regione campagna quindi anche nella nostra provincia di Salerno lei possiamo dire non è un segreto ha il suo ufficio insomma per quanto riguarda la sua impresa che si affaccia in piazza Vittorio Emanuele a Vallo della Lucania allora in questi giorni quando apre la finestra e dà uno sguardo ai lavori in corso saprà sicuramente le tante piccole grandi polemiche che sono state sollevate da questo cantiere che cosa pensa quando si affaccia su piazza Vittorio Emanuele? ma io innanzitutto da presidente dei costruttori sono contento quando si aprono i cantieri poi non voglio scendere nel merito delle polemiche che ci sono state giustamente o a torto di chi le ha fatte però credo che questa scelta politica forse non sia stata condivisa troppo con il territorio con i cittadini parlavamo prima dei politici e un tempo molto lontano nel 1800 c'era Rousseau che diceva che i governanti devono tornare dei governati quando devono fare scelte importanti quindi non bisogna mai dimenticare che se la collettività osteggia un'opera pubblica lo abbiamo visto con i cantieri con i notav con vari cantieri importanti probabilmente c'è qualche problema da risolvere però l'amministrazione ha ritenuto di andare avanti quindi per me è positivo come le dicevo prima che si aprono i cantieri non faccio il politico quindi il problema non è il mio non fai politico oggi però in futuro un suo impegno in politica bisogna pensare al lavoro e alle aziende in questo momento non ci si può distrarre anche perché mi ha colpito quella notizia dell'imprenditore tartassato dallo Stato che vuol vendere l'azienda non so se troverà l'acquirente in questo momento dell'azienda perché è un momento di depressione economica talmente brutto nel quale abbiamo il socio virtuale che è lo Stato che arriva a prelevare dalla cassa in qualunque momento o se ci sono o non ci sono i soldi e questo credo che sia la lettera denuncia di un imprenditore cilentano al Presidente della Repubblica malgrado la volontà di adempiere gli obblighi di legge l'Inps vuole 28 mila euro noi tartassati dallo Stato costretti a cedere la terra purtroppo è così e devo dire che io ricordo una frase che disse Brunetta quando si parlava di Imu e fosteggiato da tutti aveva una villa grandissima e disse Brunetta devo fare un mutuo per pagare l'Imu purtroppo questa è una realtà che accomuna molti imprenditori perché in questo momento noi abbiamo uno sconvolgimento del sistema fiscale che c'è stato con questa tassa aberrante che voglio ricordare il 40% in più della vecchia ICI anche chi non pagava come prima casa si è trovato a dover pagare ma anche importi rilevanti e devo dire che si è passato si è risvoltato il concetto del bene immobile che prima produceva rendita è diventato fonte di tassazione quindi oggi chi ha molte proprietà e non ha proprietà che rendono quindi non sono fittate non danno reddito si trova a dover pagare anche quando non percepisce alcun reddito da quegli immobili e quindi da qui la depressione dell'edilizia è un tema molto ampio e non voglio rubare troppo tempo però quello che dice l'imprenditore tartassati dallo Stato credo che è una percezione che hanno un po' tutte le imprese in questo momento possiede insieme alla moglie diplomata magistrale alcuni appezzamenti di terreni con circa 500 piante di olivo mangiando pane in mortadella racconta l'uomo nella missiva nella lettera scritta al Presidente della Repubblica all'inizio degli anni 80 abbiamo con sacrifici cercato di recuperare quanto più strisce di terra all'Icusati racconta la sua storia è un esempio parliamo di un territorio che vede tanti giovani andar via purtroppo purtroppo devo dire che noi presenteremo il 30 in conferenza stampa in Ance un'indagine congiunturale e un'analisi anche un sentiment un report sul sentiment delle imprese devo dire che l'internazionalizzazione è una delle carte vincenti che le imprese stanno mettendo in campo in questo momento perché nel nostro paese è brutto dirlo ma non si può fare più impresa guardi io stesso sono andato in Algeria con un gruppo di imprese a creare società e a lavorare perché i paesi del Nord Africa sono in grande espansione devo dire che in quei paesi si parla di lavoro di prospettive future di sviluppo e c'è l'entusiasmo nel mettere in campo i progetti in Italia siamo un po' tutti depressi perché si vuol fare qualcosa eh ma i tempi quanto tempo ci vuole per fare un esempio oggi un imprenditore che vuole ampliare il proprio pificio nel Cilento deve presentare a SUAP 18 pratiche del progetto che vanno ad altrettanti enti che devono esprimere i pareri quindi con questa burocrazia in Italia non andremo da nessuna parte però c'è una cosa in cui lo Stato è celere quello che diceva prima l'imprenditore Equitalia la riscossione i pignoramenti quindi lo Stato riesce ad esigere bene ma dall'altro lato non paga le imprese credo che il problema dei crediti che vantano le imprese nei confronti della pubblica amministrazione ormai è noto a tutti e devo dire che io quando vedo la pubblicità in tv che dice pagate le imprese guardi divento rosso di rabbia perché la verità è un'altra come dicevo prima l'ufficio marketing funziona bene pensate che nel decreto 69 Renzi che ha previsto che quando l'imprenditore ha la certificazione del credito può andare in banca a scontare questo credito è prevista solo la spesa corrente quindi l'acquisto dei beni consumabili la carta la fotocopiatrice i pagamenti di bollette o di altri servizi comuni ma non sono previste le spese in conto capitale quindi le opere pubbliche non sono in questo decreto già è mortificante che uno stato per pagare un imprenditore debba fare un decreto legge perché la costituzione prevede che chi lavora debba essere pagato però ecco siamo arrivati al paradosso tale che lo stato per dire che deve pagare deve fare dei decreti legge quindi l'imprenditore lo capisco condivido la sua amarezza si è scoraggiato un signore che ha lavorato per tanti anni immaginiamo un giovane gli sono vicino e mi ha colpito mangiando pane e mortadella alla fine sono costretto dovrebbe cacciare circa volendo reteizzare il suo debito circa 1.250 euro al mese ne guadagna 1.400 quindi voglio dire è comprensibile l'amarezza poi c'è un'altra notizia che c'è incuriosito li accreditano la tredicesima in busta paga c'è solo un euro se in occasione delle festività natalizie la tredicesima in busta paga rappresenta vabbè è attesa capiamo il perché a questa signora impegnata su una maternità fino al prossimo 30 giugno la docente di sacco ci è rimasta davvero male quando le è arrivata la tredicesima con un solo euro la signora sopporta una situazione simile a tanti altri docenti precari che per lavorare sono costretti a prendere il treno in direzione nord ecco parlavamo prima per poi trovarsi queste sgradite sorprese in busta paga andiamo avanti c'è questa notizia che arriva da Vallo della Lucania illuminare natalizie con le indennità di Aloia e del vice sindaco Marcello Ametrano uno sguardo alla pagina di Agropoli Capaccio bandiera blu Capaccio ci riprova il comune si ricandida ma il consorzio Lidi è scettico c'è ancora troppo da fare poi ad Agropoli la cronaca rissa notturna all'esterno di un bar sul lungomare a Capaccio a Gaiarda da 5 vitelli rubati dalla stalla ecco in tempi di crisi avviene anche questo poi a Capaccio carambola di auto ragazza ferita coinvolte tre famiglie ciclista travolto intanto in via Magna Grecia questa sera ad Agropoli l'appuntamento è con il presepe vivente allora ci apprestiamo a chiudere questo nostro appuntamento con la rassegna stampa naturalmente sono doverosi gli auguri ai nostri degli spettatori le faccio velocemente qualche altra domanda allora che cosa si augura risposte molto brevi che cosa si augura per il 2005 dal punto di vista economico per il nostro territorio io mi auguro in un rilancio del territorio in quanto le condizioni ci sarebbero perché i fondi da spendere ci sono chiaramente aspettiamo con ansia la designazione del presidente del parco del Cilento perché credo che il parco possa essere un grande motore di sviluppo per il territorio dal punto di vista politico e politici dal punto di vista politico io mi auguro che tutti i politici locali indipendentemente dagli schieramenti si mettano insieme per costruire un progetto condiviso per il territorio perché siamo già poveri di fatto quindi non dobbiamo acuire le divergenze ma dobbiamo ecco unirci con le idee buone quindi tutti insieme per il 2015 per dare nuove opportunità a questo territorio per evitare che tanti giovani scappano via dal Cilento questo le volevo dire dal punto di vista sociale abbiamo bisogno davvero di tanta certezza ce l'auguriamo e l'augurio che mi sento di fare un po' anche ai lavoratori della Iele a tutti coloro che vivono nell'incertezza perché credo che il lavoro debba essere un diritto garantito dalla Costituzione e chi ha il lavoro non deve poterlo perdere in questo modo però bisogna fare anche attenzione a gestire oculatamente le società e magari a non creare aspettative a non ingolfarle con posti di lavoro che poi non possono essere remunerati perché le entrate sono inferiori alle spese allora grazie presidente grazie a lei auguri a tutti auguri allora noi ci formiamo qui per la rassegna stampa odierna è tutto salutiamo e ringraziamo Antonio Lombardi presidente del Lancio e ci vediamo tra poco con una nuova edizione del TG7 grazie auguri questo programma è stato offerto da infante calzature e pelletterie a Valo della Lucania in via Angelo Rubino e ad Agropoli in via Pio 1070 infante calzature grazie a tutti